Ristretto italiano, i media internazionali scrivono di noi. Mercoledì 26, buongiorno a tutti. Cominciamo parlando, indovinate un po' di che cosa parliamo cominciando. Ieri è stato il giorno della presentazione del proprio programma alla Camera dei Deputati, oggi è quello del Senato, parliamo di questo. L'Italia rispetterà le regole europee, questo il titolo della radiotelevisione belga-francese al discorso che Giorgia Meloni, lei, ha fatto alla Camera dei Deputati ieri. L'Italia è pienamente parte del mondo occidentale, ha affermato con enfasi il nuovo capo del governo italiano, nonostante l'euroscetticismo del partito di cui è a capo. Sono sempre parole della radiotelevisione belga. E ha assicurato, continua l'articolo, che l'approccio italiano non sarà quello di sabotare l'integrazione europea, bensì quello di fare funzionare meglio la macchina comunitaria. Aiuteremo a cambiare ciò che non funziona. L'UE è una casa comune per affrontare le sfide che gli Stati membri difficilmente possono affrontare da soli. La Premier, inoltre, ha affermato che l'Italia resterà un partner affidabile della Nato a sostegno dell'Ucraina e ha denunciato il ricatto di Putin al quale è proibito cedere. Nemmeno ai Belgi, oltretutto, tanto è tirata, sfugge l'affermazione che Meloni ha fatto di non avere mai avuto simpatie per il fascismo. Ed è proprio su questa bizzarra professione di antifascismo, senza bisogno che ve le elenchi, che stanno scrivendo un po' tutte le testate che di solito sfogliamo per il nostro ristretto italiano. Passiamo all'economia. Al nuovo boss italiano manca la leva della riduzione fiscale. In questo caso è Reuters che parla, che elenca in un articolo di Lisa Jucca i primi grattacapi che la Meloni dovrà affrontare con la finanziaria, sulla quale, tra l'altro, saremo già fuori dai tempi. Con un debito al 147% del PIL, con i rendimenti obbligazionari in aumento, il margine fiscale per alleviare la crisi energetica in corso è minimo, per non parlare delle promesse elettorali su tasse e pensioni. E quindi una lotta adeguata all'evasione fiscale le darebbe nuove munizioni. Perché questo sarà un primo esame di governo? È sempre Reuters che scrive che farebbe venire mal di pancia anche a un veterano del governo. Replicare, per esempio, i generosi sussidi di quest'anno, 54 miliardi, raddoppierebbe il divario di bilancio per l'anno prossimo. E i costi legati all'inflazione aumenteranno con la spesa pensionistica che è già tra le più alte dell'Unione, che è spesa pensionistica che dovrebbe crescere fino al 16,2% del PIL. Sembra irrazionale. Quindi, a questo punto, l'ipotesi della flat tax promessa dai suoi alleati in campagna elettorale verrebbe a costare circa 40 miliardi di euro l'anno se è offerta a tutti. E deficit salirebbe ben oltre quel 4,5% che l'Italia può negoziare con Bruxelles. E quindi, suggerisce Reuters, tra le opzioni che restano alla Premier c'è un'evasione da combattere che raggiungeva i 100 miliardi nel 2019. E uno sforzo per ridurla l'aiuterebbe non poco. Sfortunatamente, però, i nuovi governanti sembrano andare nella direzione opposta, con la previsione di aumentare il limite per le transazioni in contanti a 2.000 euro. L'ipotesi del condono, oltretutto, è sempre dietro l'uscio. Giorgetti, riparatore di basso profilo, nominato Ministro dell'Economia italiano. Uno dei pochi ministri di questo esecutivo, oltre a Giorgia Meloni, capace di bucare l'attenzione internazionale, continua a essere lui, Giancarlo Giorgetti. Ora ne parla EU Reporter, il sito belga specializzato in questioni legate alle politiche comunitarie. Contrappeso discreto dentro la Lega al leader euroscettico Salvini, attacca l'articolo, Giorgetti ha già passato 26 anni in Parlamento lavorando dietro le quinte per negoziare per conto di altri e stringere amicizie influenti nel mondo della finanza, tra le quali Mario Draghi, che gli diede l'incarico oltretutto dello sviluppo economico. Giorgetti, per Meloni, non è stato comunque una prima scelta. Precedentemente era stato corteggiato a lungo Fabio Panetta, che però ha preferito non rischiare mantenendo l'attuale incarico nel board della BCE. Sebbene alcuni investitori potrebbero inizialmente essere titubanti nei confronti di Giorgetti, scrive ancora EU Reporter, dopo vent'anni di fallimenti dei governi guidati dai tecnocrati potrebbero convincersi anche a provare a un politico. Non avrà la stessa formazione economica di un panetta, ma altri saranno i suoi punti di forza. Per dieci anni Giorgetti ha guidato la commissione bilancio della Camera e la sua conoscenza di come si fanno le leggi non ha rivali. E ultimo, ma non da ultimo, le relazioni che ha saputo costruire spaziano dalla politica al mondo degli affari alla Chiesa. Fu a lui che dieci anni fa, all'epoca in cui era capo della BCE, Draghi si rivolse per essere rassicurato sui tagli di bilancio italiani prima di avventurarsi nel celebre Whatever It Takes. Da Hollywood invece Deadline, rivista digitale di spettacolo, dedica un lungo servizio al nostro nuovo ministro della cultura. Dalle sue scelte dipenderanno molte delle sorti dei lavoratori dello spettacolo. Gennaro Sangiuliano, leggo nel titolo, sta già pensando a una svolta nei finanziamenti. Giornalista Sangiuliano arriva dalla RAI dove ha lavorato negli ultimi vent'anni e dove dal 2018 ha diretto il Tg2. Tornando ai finanziamenti, l'articolo riferisce che il nuovo ministro vuole rivedere il funzionamento del Fondo Unico dello Spettacolo, un tesoretto di circa 400 milioni di euro che sostiene teatro, musica, danza, circhi, giostre. C'è invece apprezzone nel mondo del cinema per quello che riguarda il credito di imposta per l'audiovisivo che Franceschini ha portato al 40%. Alla domanda del giornalista se ritenga essere adatto per l'incarico, Sangiuliano ha risposto con i versi di Giacomo Leopardi. La poesia è quella in Italia, dedicata al declino che era già avvertito 200 anni fa del nostro paese. Poi ha anticipato di volere fare organizzare due grandi mostre dedicate una al futurismo, l'altra al rinascimento, due momenti storici e culturali che a suo dire hanno proiettato l'Italia nel mondo. Alla domanda se tema il boicottaggio dei professionisti culturali italiani, prevalentemente di sinistra, Sangiuliano si è limitato a rispondere che anche a destra ci sono energie intellettuali estremamente valide. Insomma, la storia si ripete. Concludiamo con una notizia di carattere totalmente diverso, lontana dalla politica. Costerà cara a due turisti francesi quell'ora notturna di euforia dopo avere rubato una gondola ed avere scorrazzato per Canal Grande. Come riferisce il francese corriere della Piccardia, i due giovani, entrambi i suoi vent'anni, erano saliti sulla tipica imbarcazione veneziana al ponte dell'Accademia. Ma poco dopo, nonostante fossero le tre di notte, c'era un veneziano alla finestra che ha avvisato la polizia insospettito dallo strano orario e soprattutto dal fatto che quella gondola si muovesse come una canoa. I due sono stati arrestati verso le tre e mezza, a quasi 300 metri dal punto di partenza. E nonostante le manette, dicono i poliziotti, sembravano molto felici di quello che avevano fatto. Non si sono nemmeno scusati. Tutt'altro che divertito, invece, il proprietario che ha rivendicato l'aspetto simbolico della propria imbarcazione, affermando che è come se uno di noi andasse a Parigi a lanciare un sasso contro la Tour Eiffel. Dice anche che per quanto riguarda la parte economica tra riparazioni, danno per non poter lavorare, varie ed eventuali, il conto per le due simpatiche canaglie si avvicinerà ai 15 mila euro. Era l'ultima notizia, vi aspetto domani. Ristretto Italiano di Ruggero Po.